Buongiorno a tutti, amici di TechTV. Oggi siamo qui con una recensione speciale, dedicata al laptop Pinstone. Se siete alla ricerca di un laptop elegante e performante, siete nel posto giusto. Senza ulteriori indugi, iniziamo la nostra analisi approfondita. Ecco a voi il Pinstone, un laptop che promette di coniugare stile e potenza. Con il suo design moderno e la costruzione robusta, attira subito l'attenzione. Ma andiamo oltre l'aspetto estetico e addentriamoci nelle specifiche tecniche che fanno di questo laptop un'opzione interessante. Il Pinstone è dotato di 16 GB di RAM LPDDR4, un SSD da 512 GB e un processore Intel Celeron N5095. Questa combinazione promette prestazioni fluide per le attività quotidiane e un'esperienza informatica senza intoppi. Abbiamo testato il laptop in varie situazioni, dalla navigazione web all'editing di documenti e alla riproduzione di contenuti multimediali. La risoluzione UHD da 15,6 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo l'esperienza visiva coinvolgente. Il Pinstone non si ferma qui. La presenza del sistema Touch ID aggiunge un tocco di modernità e sicurezza, consentendo un accesso rapido e protetto al dispositivo. Inoltre, il laptop è completo di Wi-Fi 5, Bluetooth 4.0, e una varietà di porte, tra cui USB tipo C e USB 3.0, garantendo connettività senza problemi. Una piacevole sorpresa è la presenza del film tastiera incluso nella confezione. Questo aggiunge un livello di protezione al laptop, mantenendolo al sicuro da graffi e polvere. La tastiera stessa offre una digitazione confortevole, rendendo più piacevole l'utilizzo quotidiano. In conclusione, il Pinstone si distingue come un laptop completo, perfetto per chi cerca stile, prestazioni e funzionalità avanzate. Con il suo processore Intel Celeron N5095, ampie quantità di RAM e uno spazioso SSD, è pronto ad affrontare le sfide quotidiane. Se siete interessati a un laptop che unisce stile e potenza, il Pinstone potrebbe essere la scelta giusta per voi. Lasciateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete domande o richieste di recensioni future. Non dimenticate di mettere un pollice in su se questa recensione vi è stata utile e iscrivetevi al nostro canale TechTV per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Grazie per essere stati con noi oggi e ci vediamo al prossimo video.